signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefem 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno eccoci pronti con la top 10 come sempre con la numero 10 iniziamo in egramaro con il brano la cura del tempo posizione numero 9 per i bandabash con don't worry numero 8 per federico zampaglione tiro mancino il singolo cerotti posizione numero 7 per i pinguini tattici nucleari il brano scubidu numero 6 per luciano ligabue con elisa volente o nolente numero 5 per madame con fabi fibra il mio amico posizione numero 4 per samuel e con la pesce il brano è cocorico tagliamo sul podio come sempre numero 3 per basco rossi una canzone d'amore buttata via numero 2 per emma con alessandra amoroso pezzo di cuore ed arriviamo alla prima posizione troviamo takaji che tra marco mengoni il singolo è venere e marte sono loro i numeri 1 mi guardi Grazie a tutti.